Stagione 22-23, bentrovati amici di WeSport, si riparte dalla Serie D nella versione Coppa, primo turno preliminare, esordio assoluto del neonato Catania del presidente Ross Pelligra, che rende visita alla San Cataldese al Valentino Mazzola, quest'anno Verdi Amaranto affidati alle cure del tecnico Vullo, sulla panchina del Catania invece c'è mister Giovanni Ferraro, si parte. Catania subito arrembante con lancio di Giuseppe Rizzo per Sarau che prova ad anticipare Dolenti alla Peggi, il portiere della San Cataldese, la difesa spazza, si riprende anche l'estremo difensore protagonista, poco dopo perché c'è un calcio di punizione che viene smanacciato in corner, ci prova anche la formazione padrone di casa, Calabrese per Maltese fa la sponda sul secondo palo dove arriva Baglione che di testa colpisce male, para Betters, si rivedono gli ospiti in zona offensiva con Sarau che dalla sinistra prova a girarsi francamente complicato, trova solamente l'esterno della rete, poi dalla destra Rapisarda, ancora un bel cross sul secondo palo, arriva il tentativo dell'accompagno che però cicca il pallone, si resta sullo 0-0 al Valentino Mazzola quando il Catania chiede un cooling break, tanto caldo quello da sopportare per le due formazioni sul terreno di gioco, ci riprova la formazione etnea, Corrizzo per Russotto che c'entra il palo, chiude in avanti ancora una volta il Catania con Giovinco che su punizione indovina per Lorenzini, colpo di testa, grande Dolenti, reggono le reti bianche al Valentino Mazzola, si resta dunque sullo 0-0 e si riparte col film della ripresa, c'è un calcio di punizione quando siamo al 73esimo, Lodi prova a scucchiaiare col mancino Dolenti, controlla che il pallone finisca sul fondo all'82esimo, però Sarau scappa ancora sull'out destro, viene atterrato così da Maltese, il secondo giallo per l'ex Licata e Trapani e resta allora in 10 uomini la San Cataldese per gli ultimi 8 minuti, ci prova fino alla fine la Catania, Cross messo dentro per Sarau che fa la sponda su Bani, liscia la conclusione ma ci sono le proteste per un possibile calcio di rigore in favore degli etnei che non viene accordato dal direttore di gara, saranno allora i calci di rigore a stabilire chi supererà il primo turno preliminare di Coppa Serie D, inizia il Catania con Palermo che va a spiazzare Dolenti per la San Cataldese, sarà proprio l'estremo difensore a cercare la prima trasformazione, parte Dolenti, batte il collega Beders e riporta il risultato in parità, adesso 1 a 1 è il momento di Lorenzini, ci prova col mancino, intuisce solamente Dolenti, la Catania si riporta avanti, 2 a 2 invece consegnato con questo pallonetto bellissimo a opera di Duccio alla San Cataldese, non molla un centimetro, tocca a Castellini con il suo destro, la rincorsa, anche in questo caso Dolenti capisce il lato ma non riesce a intervenire, nuovamente la San Cataldese Apostolos, perfetto il suo rigore ad incrociare col sinistro, Babani per il Catania, incrocio gonfiato, non sbaglia nessuno al Valentino Mazzola, tocca a Baglione, anche lui si presenta con una trasformazione perfetta, è il momento di Sarau, sinistro, potente, centrale, non può nulla Dolenti, tocca al fratello d'arte, Torregrossa in casa San Cataldese, spiazza nettamente Beders, porta il risultato sulle 5 a 5, Forchignone per il Catania, ottimo il suo destro a spiazzare l'estremo difensore avversario, poi Calabrese per la San Cataldese, rincorsa e anche in questo caso il portiere non può nulla, iniziano però anche gli errori, prima il Catania con Pepperizzo, l'ex Messina si fa ipnotizzare da Dolenti, farà lo stesso però Garofalo contro Beders, il portiere del Catania fa un figurone e mantiene il risultato in parità, 6 a 6 adesso, Chinnici per il Catania, la manda in curva e allora l'occasione di vincere per la San Cataldese sui piedi di Di Marco, la sua rincorsa con il Mancino, spiazzato il portiere, il gol, quello decisivo che porta la San Cataldese al prossimo turno di Coppa Serie D, una vittoria prestigiosa contro il neonato Catania, amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.